Ben trovati carissimi amici e amiche, eccoci qui per pregare insieme come sempre il martedì e il giovedì preghiamo insieme una decina del rosario, è un'occasione per unirci non solo nell'ascolto del Vangelo ma anche sapendo che per chi può c'è un momento in cui tutti insieme ci ritroviamo per pregare. Eccoci qui allora alle 21 e 30 e chi non può si collegherà in un altro momento. Preghiamo la nostra decina del rosario affidando tutte le intenzioni, molte intenzioni le abbiamo anche potute leggere perché le scrivete qui e allora altre le scrivete mentre anche preghiamo e noi affidiamo tutte queste intenzioni pregando gli uni per gli altri e poi naturalmente anche per tutto quello che non viene scritto perché siamo in tanti e ognuno di noi ha le sue ragioni anche diciamo alcune persone per cui vuole pregare, alcuni pensieri, alcune situazioni, per esempio per la pace preghiamo sempre. Affidiamo allora le nostre preghiere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questa decina del rosario meditiamo la risurrezione di Gesù, un momento di silenzio. lasciamo alle spalle i pensieri che ci distraggono e cerchiamo di vivere questo momento di preghiera pregando con il cuore Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli O Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e adesso preghiamo ancora un padre ave gloria per il nostro Papa Francesco preghiamo per tutta la Chiesa e per tutta la nostra comunità per tutti noi che preghiamo e che ascoltiamo il Vangelo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen Angelo di Dio che sei il mio custode illumina, custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla Pietà Celeste Amen Ricordiamo tutti i nostri cari defunti e tutti i defunti L'eterno riposo dona a loro Signore Splenda ad essi la luce perpetua Riposino in pace Amen L'eterno riposo dona a loro Signore Splenda ad essi la luce perpetua Riposino in pace Amen E ora la benedizione per te per le persone per cui insieme abbiamo pregato per le persone che porti nel cuore Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amen Io vi abbraccio e vi auguro una buona notte o un buon proseguimento se vi collegate in un altro momento Ma grazie comunque per esservi uniti a questo momento di preghiera Davvero di cuore Un carissimo saluto Ciao ciao E abbi cura di te Ciao A presto